ed eccoci qui il video più richiesto in assoluto ma partiamo subito allora tanto questo che me l'hanno regalato questo su winter quindi me l'hanno regalato perché sennò non sarebbe mai stato acquistato perché io non amo né romanze né gialli me ne frega niente sinceramente però avevano regalato quindi manco sapevo come avessero regalato puttamo su a colpi di cristallo in genere giallo credo almeno scritto quel modo se n'è un altro aspetta lo cacchio è quest'altro questione di metodo questo hanno regali quindi accettiamo carica batteria ho lasciato la scatola e quindi questo è poi devo dire totti più libro la mia vita i miei gol e direi che parecchi le gol poi la vita insomma ultimamente l'almanacco del 2019 così completiamo un po tutta l'opera ancora me ne mancano parecchi ma però intanto passo a passo si completa tutto e poi quello del 2020 aspetta credo qui crolla tutto questo del 2020 tra l'altro proprio ed euco proprio ed euco non so se le dice così perché dopo vincemmo proprio l'europeo quindi nel 2021 che slittò tutto causa covid purtroppo ancora questo non era a conoscenza quando uscì ma sa e quindi bello comunque è una copertina come sempre da me piacciono parecchio gli almanacchi anche perché impiene le statistiche curiosità eccetera questi tre aspetta che mettiamo tutti insieme questo questo tra l'altro c'è un gran problema non so che cazzo c'ha sto rischetto perché ogni volta che metto sto rischetto nella playstation 3 se spegni boh c'è verrà qualche file danneggiato non lo so però c'è qualcosa che inquadra peccato perché l'ho giocato non è male ovviamente in giochi vecchi quindi non è che ti puoi aspettare chissà che da giochi dei dieci anni fa quasi quindi però mi mancava quindi siccome voglio completare anche quest'altra serie dei formula 1 allora ho detto abbiamo tanto su tre giochi mi pare 5 10 euro mi ricordo 8 euro e quindi è questo poi quest'altro questo è davvero bruttissimo l'ho provato mamma mia se nella grafica non manco della playstation 2 ma la playstation 1 davvero brutto infatti non conosciamo ancora l'assistenza e infatti fa schifo però vabbè prestigio spicci questa è un'altra saga nel need for speed però sto capitolo non mi è piaciuto granché l'ho giocchiato ma mi ha detto niente ci hanno dei meglio sicuramente e poi l'immancabile libro di totò a livella ecco questa la consiglio tutti quanti sta 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 non so se è una poesia o quel che cacchio è però insegna tante cose poi poi gioco della playstation 5 diabolo 4 sul diabolo 3 i primi due diaboli non per pc ma chiaramente non mi piace non quel tipo di genere bello questo tanto grinding tanto tanto parecchio lungo e quindi mi piacciono un casino sti giochi dove tocca a livella eccetera eccetera molto molto bello secondo me poi ancora anche se ancora lo da lo da rioca questa io penso fosse il libro sui ciri invece è una guida turistica però vabbè mi mancava quindi alla fine c'è stato lo stesso va bene lo stesso e qui niente poi quest'altro libretto è 3 euro l'ho preso su amazon giacomo gaione la pienezza della gioia la riscoperta del senso del dolore questo era un personaggio che secondo me prossimamente faranno sicuramente santo se non sbaglio già venerabili sarebbe il grado prima del beato se non dico fosserie un gran personaggio se non sapete che andate su internet sicuramente trovate tante cose di lui c'è neanche video su youtube bella bella storia anche molto commoventi e quindi niente questo è un altro libro altro gioco dead island 2 bel gioco ancora come vedete in cielo finato ancora la gioca purtroppo il tempo è quello che qualcuno dirà ma un fincazzo vero però queste partite nato non c'è mai tempo ne fa niente tra la serie a la serie a serie c la tempos league europa league la conferenza eccetera eccetera non c'è quasi mai tempo e quindi bello però questo ho visto qualche video recensione anche graficamente in passo avanti al primo questo è poco ma sicuro e anche livello dei gameplay secondo me il primo era davvero grezzo avere che era uscito quando uscì proprio la prestation 4 mai tantissimi anni fa però c'è un netto miglioramento secondo me rispetto al primo tra l'altro il primo è anche abbastanza noioso perché alla fin fine dovevi fare sempre stesse cose ammazzare i zombie e basta spero questo sia migliore da provare sicuramente poi c'è un bel libro questo è una grandissima occasione tra l'altro penso su inter da roba che de gubbio su winter davvero non si trova niente invece spulciando 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 10 euro questo 10 euro se guardate su ebay costa 38 40 euro fatto davvero un affarone davvero molto bello tra l'altro i cieli di gubbio san giovanni la per chi non sapesse la chiesa di don matteo bello 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 ti spiega un po tutta la come sono faticidi eccetera la storia foto vecchie a tavola buona san martino al centro storico e bello questo in realtà non siamo noi questo è il maggio insomma d'eterni mesabù testa di san pancazzo alzata nel maggio se la fossero di schiccia sampellina ah guarda guarda non mai seguito sinceramente non lo so le tavole gubbene attimi prima dell'alzata e va bene guarda che spettacolo ragazzi mamma mia davvero bellissimo gubbio ragazzi fosse amministrato bello sarebbe il top ma però come bellezza e sicuro insieme a seconda nessuno secondo me poi non lo so è bello questo affreschi montefeltro c'è una storia gubbio davvero bellissima mamma dove le vede santupaldo il cero conformazione è bello bello duomo tra l'altro ci voglio ritornare da un po' da tempo che non ci voglio anche perché io non sto proprio al centro una volta stavo al centro adesso sto in periferia bella stavo sul monte l'ascesa dei cieli verso il monte in gino la basilica di santupaldo altre conformazioni dei cieli le barelle e niente alla fine di questo video guarda solo sto libro va bene è un libro che finisce mai in pratica sono allora 218 pagine mamma mia un giorno magari leggerò per beni comunque la foto già palla da sé tra l'altro è una raffigurazione di quella cartolina che ho fatto l'impiccata è una ristampa della metà del 1800 questa anche se no aspetta questa me sa che è diversa da quella lassù però molto molto bella ecco ne niente e questo è il libro poi c'è un altro aspetta che crolla tutto altro libro su cubbio memorie e guida storica questa è una ristampa però il libro in prima lezione è dalla fine del 1800 se non sbaglio 1888 di Oderiti Lucarelli molto molto bello per questo tra l'altro un bel malloppone senza foto anche perché all'epoca c'era tutto sto sto iphone mamma mia ecco comunque poi c'è il libro biografico dell'Omessi tra l'altro tra me le biografie mi piacciono un casino davvero molto molto belle anche i film autobiografici spesso si trovano anche su iplay e pieno ho visto film su che ne so il grande Torino Mussolini eccetera tanti tanti film c'è ho visto Padre Pio Don Bosco eccetera questo da leggere sicuramente la storia ovviamente la conosciamo tutti c'è ben bocati su messi ragazzi in extraterrestre poi il babbo ma ha portato sto coso che io bruceria già vede il grifone del Perugia mi ha brutto male ma vabbè per collezionismo perché poi ne manco del Perugia ma Pennaricci Perugia non so che squadraccia è sinceramente 1964 tra l'altro usa anche i colori sociali del Gubbio quindi per carità il grifone sul colorio sul blu mamma mia ma ha bruciato tutto poi la maglia dei rossi ovviamente è una replica non è mai vera questa si vede già si vede già lo stemma da come è scritto anche dei rossi infatti però per 5 euro non è che più pretende una maglia originale ovviamente e poi c'è lo stemma del Gubbio questo sì che è fatto bene il sole che hanno è sinceramente ce n'è anche l'enantotipo un po' più quadrato ho visto questo però me l'ha annulato un gran regalo questo S Gubbio 1910 dietro c'è la mandiera italiana bello stemma e quindi niente vabbè il quaderno questo ci scrivo i studi che fa ogni giorno questa è tutta la roba c'è un casino in testa camera che fra un po' non c'entro più e quindi niente questo è tutto direi che anche sto mese parecchia roba sembra poca ma in realtà è tantissima ho speso 100 euro e più resta tutto quanto e quindi niente appuntamento alla prossima al prossimo mese e vediamo un po' di comprare altre robe già ho visto qualcos'altro quindi sicuramente ci sarà qualcos'altro da comprare sto mese per adesso lo desiguro perché non c'è più una lira speso qualunque però a me la spende quel così che la spende per le stronzate o per le droghe e cazzate varie e quindi niente appuntamento alla prossima